Tu sei? Sono Noemi. Come? Noemi. E da dove vieni? Vengo dalla Calabria, sono calabrese e vengo da Zumbri. E cosa fai? Studio lingue a Giorbergata. Te alle lezioni andrai a votare? Faccio probabilmente sì, scenderò in Calabria a votare. E vuoi dire per chi? No, è un segreto. Va bene. E tu conosci la riforma del lavoro di Renzi, sai cosa sta facendo? Sì, più o meno sì. E qual è la tua opinione a riguardo? Non so, ancora devo un pochettino capire bene la situazione.